Natale con i tuoi, purché abitino nella tua stessa regione. E' in vigore da oggi, fino al 15 gennaio, il nuovo DPCM annunciato ieri sera dal Premier Conte e prevede regole universali, al di là del colore delle zone. L'obiettivo è quello di scongiurare una possibile terza ondata che potrebbe colpirci subito dopo le feste, nei mesi più freddi dell'anno. Dal 21 dicembre fino all'Epifania, vietati gli spostamenti tra regioni diverse e non ci si potrà arrecare nemmeno nelle seconde case. Il 25 e 26 dicembre e il primo di gennaio, gli spostamenti sono vietati anche tra comune e comune, a meno che, come sempre, non si abbiano comprovate esigenze lavorative, di salute, eccetera. Resta in vigore il coprifuoco, dalle 22 alle 5. Il coprifuoco sarà esteso la notte di San Silvestro fino alle 7 del mattino. Bar e ristoranti chiuderanno alle 18, fatta eccezione nelle zone rosse, dove rimane consentito solo l'asporto. Ma a Natale, a Santo Stefano, a Capodanno e all'Epifania, si potrà pranzare fuori, quattro persone per tavolo, ma non cenare. E anche i cattolici festeggeranno prima. In accordo con la Conferenza Episcopale Italiana, il governo ha deciso che le messe, in virtù del coprifuoco, termineranno entro le 20 e 30. I negozi potranno rimanere aperti fino alle 21, mentre saranno chiusi gli impianti sciistici. Per scoraggiare le vacanze, chi rientra dall'estero sarà obbligato a 10 giorni di quarantena. Inoltre, dal 7 gennaio, il 75% degli studenti delle scuole secondarie tornerà sui banchi di scuola. E l'Abruzzo attualmente è ancora in zona rossa. Per oggi è atteso il report settimanale della cabina di regia ministeriale, in base al quale l'Abruzzo potrebbe cambiare colore a partire da domenica. Sono fiducioso, ha detto il presidente regionale Marco Marsilio, stando ai numeri siamo già in zona arancione. Ed ecco i numeri. I posti nelle terapie intensive abruzzesi sono occupati al 40%, mentre la media nazionale è leggermente superiore. E l'indice RT è a 1,11 in linea con la media nazionale. La speranza del governatore è quella di ottenere la zona arancione prima del 10 di dicembre, così da salvare i consumi della festa dell'Immacolata.